Eccoci, siamo con il bomber, Franco Ballarini, ciao Franco! Ciao a tutti! Allora, da poco è finita la partita, è terminata 1-1, hai sbloccato il risultato, ti sei sbloccato tu, ma abbiamo fatto solo un punto. Eh sì, sinceramente sono contento del fatto che mi sono sbloccato a livello di gol. Il gol, pensavamo di averla chiusa perché mancava poco alla fine, però purtroppo loro si sono buttati tutti in avanti e purtroppo abbiamo subito il gol all'ultimo minuto, agli ultimi 30 secondi. C'è il rammarico di non aver portato a casa la vittoria, però siamo consapevoli che abbiamo fatto un punto in casa della Clivense che è la pretendente al titolo. Sì, infatti si diceva prima che siamo in casa della squadra più forte del nostro girone, però sai, era un bel gol augurante al 43esimo del secondo tempo. Noi abbiamo visto comunque una partita equilibrata, la squadra ha calato un po' i ritmi ad hoc per cercare di fermare un attimo la velocità loro, però ci siamo riusciti e stavamo tentando anche di portare a casa i tre punti. C'eravamo quasi, purtroppo non siamo riusciti, ripeto c'è questo rammarico, però adesso testa alla prossima contro il Bassano, sono sicuro che ci rifaremo. Ok Franco, in bocca al lupo, alla prossima. Crepi. Ok Franco, in bocca al lupo, alla prossima.